È stata presentata a Palazzo Madama la trentesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà all'ingotto da giovedì 18 a lunedì 22 maggio 2017. Il nuovo presidente della Fondazione per il Libro, Mario Montalcini, e il direttore editoriale, Nicola Laggioia, hanno anticipato le linee guida. Grande attenzione a web, cinema, fotografia, traduzioni e ragazzi. Per questa edizione sono previste nuove partnership con Unione Industriale, Politecnico e Teatro Regio, che contribuirà all'allestimento scenografico.